buongiorno maniaci di parkside oggi che cosa vi volevo mostrare questo piccolo tools ovvero attrezzo che è uscito qualche giorno fa e perché ve lo volevo mostrare perché ho visto che sul gruppo se ne parlato molti molti hanno domandato che cos'è a cosa serve è utile non è utile io l'ho trovato io non l'ho trovato innanzitutto bisogna dire che è sparito la velocità della luce io ne sono riusciti a prenderne due 1 appena uscito ne erano rimasti solo tre nella nella cesta e uno ieri mi è capitato per sbaglio di trovare una specie di sotto diverse pinze era nascosto si vede che è finito sotto e la gente non se ne accorta e sono riuscito a recuperarne un altro ma che cos'è perché molti hanno detto io non ho capito ancora che cos'è è una specie non so come dirvi è un attrezzo multiuso tipo quello che usano gli scout quando vanno a fare le loro escursioni nei boschi oppure non lo so vi può tornare utile anche se andate a fare del campeggio io mi ricordo che la prima volta che vi di una cosa del genere era negli anni 80 ora vi ammorbo un po con i miei aneddoti negli anni 80 mi ricordo che i miei genitori mi mandarono in campeggio e avevo comprato in un negozio di attrezzatura di camping e tutto c'era un set con della giostile o della colibri ora non mi ricordo la marca dove praticamente c'era la tazza la forchetta il coltello quelle robe lì e all'interno in una in una feritoia c'era anche un attrezzo come questo però ovviamente quello della giostile della colibri mi ricordo che era più spesso fatto in acciaio inox addirittura aveva una specie di seghetto sul lato che potevi anche utilizzarlo per segare e diciamo che è un attrezzo multiuso cosa serve quindi innanzitutto partiamo dal prezzo 2 euro e 50 con 2 euro e 50 voi che cosa avete beh come vedete qua un apri bottiglie vedete questo qui quindi uno diceva ma non serve a niente inutile beh intanto con 2 euro e 50 solo il costo di un apri bottiglia averlo sempre con sé averlo in giro perché qua vi faccio vedere volendo si potrebbe anche attaccare alle chiavi di caso alle chiavi della macchina io ho provato a mettercelo è un po scomodo e anche a tenerlo nel portafoglio ho sentito che molti si sono lamentati che rovine il portafoglio giustamente alla forma di una piccola card di una tessera del banco ma però essendo appuntito avendo questi angoli qui può può danneggiare il portafoglio e però vi dicevo è un attrezzo che veramente torno io perché ne ho presi due uno va bene ho lasciato in macchina in macchina perché ogni volta che magari compro qualcosa o una confezione mi tocca sempre aprire la plastica magari non si riesce a tagliare e qui come potete vedere ci sono punte lame addirittura qui c'è una piccola lametta c'è lama diciamo che è affilata comunque e vi può permettere di aprire la confezione ora vi faccio vedere un po' le funzioni che ha questo piccolo multitool ripeto con 2 euro e 50 già solo che vi apre le bottiglie ce l'avete sempre a portata di mano e comodissimo però altre funzioni che comunque secondo me tornano utili io l'ho preso principalmente per aprire i pacchi perché perché vi dico subito che mi arrivano i pacchi da amazon ogni volta a trovare un coltello un taglierino poi col rischio di rovinare il contenuto e tutto quanto come potete vedere qui c'è una punta e una lama potete benissimo già provato tirare lungo lo scotch e tagliare e aprire il pacco io per principalmente l'ho preso per quello perché ho detto cavolo almeno mi torno devo sempre trovare un paio di forbici da qualche parte un taglierino ho questo a portata di mano l'ho messo proprio all'ingresso di casa così quando arriva il corriere mi consegna il pacco la prima cosa che faccio prendo questo e apro il pacco e vi faccio vedere anche qui tipo il cellophane della rivista uno mette dentro tira giù che ha aperto anche per dire la confezione di cellophane ma è una stupidata è potete aprirci anche le lettere vi arrivano le bollette volete aprirle lo tenete sempre lì sul sulla credenza sullo svuota tasche che magari avete all'ingresso di casa vi torna veramente utile e che cos'è che ha oltre a vabbè dicevamo l'apri bottiglie l'apri lettere qui l'apri l'apri pacchi apri lettere ha nei quattro angoli un cacciavite dei piccoli cacciavite vedete questa punta poi voi potete usarlo come cacciavite anche qui vedete ora io spero perché mantenga il fuoco cacciavite di qua e cacciavite anche da quest'altro l'angolo oddio è non è non pensate che vi mettete lì a montare un armadio con questo coso qui e anche per quanto riguarda la parte centrale dove vedete la scala graduata che potete praticamente sono delle chiavi esagonali di emergenza cioè non pensate che vi mettete a smontare le ruote della macchina e con questo affarino qui questo serve benissimo secondo me perché i ciclisti quelli che vanno in giro magari gli si è allentata la valvola vogliono stringere la valvola sulla ruota avete qua tutte le misure dalla 6 7 fino alla 14 oddio manca la 13 manca la 11 però ripeto in emergenza questo andrebbe a sostituire quello che i ciclisti si portano dietro con questo avete presente questi affarini qui cioè con questo non è che andate a smontare le ruote della macchina però un ciclista che se fate se la domenica vi dilettate vi andate a fare il giretto in bici vi portate questo dietro se dovete stringere una vite ovviamente vi si è allentata la ghiera della valvola per dire con questo magari riuscite anche a tornare a casa ecco quindi non prendete non dite ma come mai non c'è la 18 la chiave da 18 cioè ragazzi la chiave da 18 non c'è perché è piccolino e quindi non vi mettete ad avere certe pretese con 2 euro e 5 vi ricordo 2 euro e 50 quindi è comodo anche per questo per chi va in giro che per chi si va in bicicletta la domenica se lo mette lì nella borsettina sotto al sellino semmai grattatevi non dovesse succedervi qualcosa comunque un piccolo bulleno un bullone ve lo avvitate un cacciavite lo avete un paio di cacciaviti o se dovete che ne so tagliare via un lembo qualcosa lo avete e aprisca abbiamo detto ma abbiamo anche la priscatole qui come potete vedere c'è scritto anche can opener è il classico a priscatole ora io non lo so molti magari in campeggio ci hanno la vogliono fare i fagioli alla john wayne i fagioli alla bud spencer solo porta indietro anche qui ci hanno sia la prima bottiglia che la priscatole e tra l'altro qui ho visto anche che c'è il pela patate però mi domando come si può aprire le patate secondo me questo è per le bucce delle arance tipo dove devi sei in giro vuoi aprire un'arancia con questo qui fai forza c'è anche qui una piccola lama e puoi utilizzarla per sbucciare per divertire l'arancia come potete vedere è carino secondo me 2 euro e 50 per questo cosino sono il top sono veramente con due ore e 50 cosa ci comprate cioè un paio di caffè con un paio di caffè voi comunque avete un attrezzino che vi torna sempre utile infatti mi ero rammaricato di averne trovato uno solo ora con due sono più tranquillo perché ne perdo uno ma lo dimentico in macchina ne tengo uno in casa e uno in macchina per quando sono fuori per quando sono in giro qua come potete vedere c'è anche un piccolo righello se dovete magari sapere a spanne quanto misura uno schermino qualcosa qua c'è il righello cosa c'è ancora più qua invece dove dice direction recognition non è nient'altro che se avete una cartina ad esempio siete nei boschi avete una cartina voi vi mettete con questo attrezzo con questa specie di goniometro e vi guardate la direzione dove state andando in base alla cartina al punto dove vi trovate che altre funzioni a vedo qui che c'è anche una fessura qua non so potete utilizzarla o magari per dare per piegare per fare una lamiera o per girare una chiave che magari vi si è incastrata la chiave non riuscite a girarla la infilate qui e date più forza secondo me ragazzi boh per due ore e cinquanta vi siete vi trovate un affarino che magari in qualche situazione vi può tornare utile ecco cavolo se ce l'avevo ma mi tocca tornare a casa andare a prendere gli attrezzi magari con questo qua riuscite a risolvere il vostro problema per me ripeto è comodissimo quindi se vi capita se vi dovesse capitare di trovarlo io vedete l'ho messo qui ce l'ho anche a portata di mano se vi dovesse capitare secondo me non sono due euro e cinquanta li potete anche buttare e tra l'altro vi vi tenete un cosino che è simpatico e carino e all'occorrenza vi torna utile bene ragazzi io ho detto tutto spero di avervi chiarito qualcuno domanda che cos'è cosa serve e spero di avervi chiarito un po tutti i dubbi e come al solito vi mando un grosso abbraccione e vi saluto ciao ragazzi